Perché vi parlo del mistero della radice quadrata? Perché in effetti ognuno di noi ha appreso l'algoritmo del calcolo così menemonechiamente senza rendersi conto della logica dei vari passaggi che si eseguono durante l'operazione. Però per poter comprendere quello che vi dirò è necessario che ripassiamo un po' proprio l'algoritmo che abbiamo imparato meccanicamente. Immaginiamo di dover calcolare la radice di 92. Chiaramente la radice di 92 non ci darà un risultato esatto. Per quale motivo? Che non esiste nessun numero che elevato al quadrato, un numero intero che elevato al quadrato ci dia 92. E allora siamo costretti ad eseguire delle approssimazioni. Il numero che si avvicina a 92 quando viene elevato al quadrato è 9. Però è un risultato approssimato a meno di una unità. Dato che 9 per 9 ci dà 81 avremo un resto. Che è in questo caso 11. Se decidessimo di avere un risultato più preciso saremmo costretti a eseguire l'operazione con un'approssimazione di almeno di un decimo. E quindi questo lo scriviamo qui. Ma siamo anche costretti ad aggiungere due zeri e a separare l'ultima cifra con un puntino. A questo punto che cosa abbiamo imparato nel passato? Che dobbiamo scrivere qui il doppio di 9. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare il quoziente fra 110 e 18 che è 6. E poi moltiplichiamo per 6 e otteniamo 6 per 6 per 8, 48 e 3, 51, 6 per 1, 6 e 5, 11, 116 che è maggiore di 1100. E quindi facciamo il calcolo provando per una cifra in meno e quindi facciamo 185 per 5 e otteniamo 5 per 5, 25, 5 per 8, 40, 42, 5 per 1, 5, 49 e otteniamo un risultato che è minore di 1100. E allora diciamo che la cifra da poter considerare è 5 e abbiamo scritto un risultato approssimato a meno di un decimo. Però non ci siamo resi conto del perché di tutti questi passaggi. Volendo continuare dobbiamo calcolare il risultato approssimato a meno di un centesimo. E per questo motivo siamo costretti a considerare altri due zeri e stacchiamo l'ultima cifra di 17500. E come abbiamo fatto precedentemente qui scriviamo il doppio di 95 che è 190. E calcoliamo il quoziente fra 1750 e 190 che è 9. Moltiplichiamo per 9 e abbiamo 9 per 9 è 81, 9 per 9 è 81, 9 per 9 è 8, 17. 17181 è minore di 17500 quindi qui possiamo scrivere 9 e avremo per resto 319 e così via. Il risultato che abbiamo scritto qui è 959 approssimato a meno di un centesimo. Quindi questi 959 sono 959 centesimi del risultato esatto che corrispondono a 9,59 che è la radice che cercavamo. Inquadrando la questione dal punto di vista geometrico il calcolo della radice quadrata ci porta a determinare la misura del lato di un quadrato di cui noi conosciamo l'area. Per esempio in questa situazione se l'area di questo quadrato è 49 metri quadrati con il calcolo della radice noi troveremo che il suo lato misura 7 metri. Quindi eccolo. Continuiamo il nostro discorso inquadrando la questione sia dal punto di vista aritmetico che geometrico. Dal punto di vista aritmetico calcolare la radice quadrata di 81 vuol dire trovare quel numero che elevato al quadrato ci dà 81. Dal punto di vista geometrico come già vi ho detto calcolare la radice di 81 vuol dire determinare la misura del lato del quadrato di area 81. Immaginiamo adesso di dover calcolare la radice quadrata di 92 che non è un quadrato perfetto e allora essa si troverà compresa fra la radice di 81 e quella di 100 quindi fra 9 e 10. E allora la situazione geometrica è questa il quadrato viola è il quadrato di area 81 e quello più chiaro è di area 100 e il quadrato di area 92 si troverà nella zona intermedia più vicino al viola piuttosto che al quadrato più chiaro e la cosa diventa molto più evidente se noi spostiamo la posizione del vertice del quadrato più grande e come vediamo la misura del lato mano a mano diminuisce e se guardiamo sopra vediamo che l'area mano a mano si avvicina a 92 quindi il quadrato di 92 è quello che noi vediamo rappresentato con un viola più chiaro. è evidente quindi da questo disegno che il lato di questo quadrato è un numero intermedio fra 9 e 10 quindi non può essere un numero intero e siamo costretti a fare un calcolo approssimato. la differenza di area fra il quadrato di area 92 e quello 81 è rappresentata da questi due rettangoli i due rettangoli viola chiaro che si trovano in alto e a destra più il quadrato viola scuro che si trova al vertice corrispondente L tutta quella zona rappresenta la differenza fra le aree dei due quadrati e il lato del quadratino non lo conosciamo è x ora passiamo al calcolo che vi presento nella parte sinistra questo calcolo sarà effettuato come già sapete con l'approssimazione a meno di unità e ci darà 9 che corrispondono geometricamente alla misura del lato del quadrato che consideriamo in prima approssimazione uguale a 9 metri questa approssimazione è minore di un metro ora calcoliamo il resto otterremo 11 che cosa è questo 11? 11 rappresenta l'area della zona che è la differenza fra l'area del quadrato di 92 e l'area del quadrato di 81 ed è proprio di 11 metri quadrati questi 11 metri quadrati sono rappresentati da questi due rettangoli di colore viola chiaro che si trovano in alto e a destra qui in colore ocra e da un quadrato in viola scuro se vogliamo continuare è necessario eseguire una trasformazione geometrica e quindi disegnare i due rettangoli in modo tale che siano consecutivi allineati sulla stessa retta e ad essi si deve aggiungere il quadratino di colore viola scuro avremo così un unico rettangolo che avrà per base 9 metri più 9 metri più una quantità x e di altezza x ora non possiamo calcolare i valori di x direttamente dalla base ma utilizzando l'altezza e quindi la formula inversa dell'area che ci dice che l'altezza è uguale all'area diviso la base quindi dovremmo fare 11 metri quadrati fratto 18 più x ma questa operazione non è eseguibile in quanto nel divisore manca la quantità corrispondente a x allora possiamo accontentarci di eseguire dei tentativi successivi partendo da una prima ipotesi che ci fa affermare che la base può essere soltanto lunga 18 metri a questo punto però la cifra che noi cercheremo di determinare dovrà essere sicuramente migliore del metro e quindi sarà esprimibile in decimetri allora questo ci costringe a trasformare l'area da metri quadrati in decimetri quadrati e il lato da metri a decimetri quindi avremo che metri quadrati 11 corrispondono a 1100 decimetri quadrati e 18 metri di base corrispondono a decimetri 180 allora in quella formula noi dovremmo fare 1100 fratto 180 ma questo ci permette anche di semplificare ed eliminare due zeri e avremo la frazione 110 diciottesimi che ci dà per risultato 6 decimetri a che cosa corrisponde questo nell'operazione? alla parte in cui noi abbiamo imparato a separare da 1100 l'ultima cifra 0 e a dividere tutto per 18 e per far in modo che dalla divisione possiamo determinare la cifra 6 ma questo 6 non è sicuramente accettabile dobbiamo fare un controllo quindi bisogna validarlo e per poterlo validare dobbiamo fare una prova per considerarlo accettabile per fare la prova che dobbiamo fare? moltiplichiamo la base per l'altezza per vedere se l'area rientra in quei 1100 decimetri quadrati se moltiplichiamo 186 la base per 6 l'altezza otteniamo 1116 che è maggiore di 1100 quindi 6 decimetri non è accettabile e allora che cosa facciamo? possiamo provare per 5 e allora rifaremo di nuovo la stessa prova 185 per 5 ci dà 925 che è minore di 1100 allora 5 è accettabile e questo corrisponde a tutto quello che vedete sulla sinistra dove abbiamo fatto la prima prova 186 per 6 uguale 1116 e poi la successiva 185 per 5 uguale 925 e questo ci ha permesso di validare la cifra 5 e ci ha permesso di scrivere 5 dopo il 9 purtroppo il resto è diverso da 0 infatti avremo come risultato 175 che rappresenta che cosa? la differenza fra l'area del quadrato di 92 e quella del nuovo ipotizzato quadrato di lato 95 decimetri la zona è rappresentata da questi due rettangolini uno superiore e l'altro a destra più quel quadratino che vedete in alto a destra come vedete dal disegno la zona si è ridotta ci siamo avvicinati molto di più al lato del quadrato di area 92 ora per continuare dobbiamo ripetere lo stesso ragionamento e che cosa dobbiamo fare? una trasformazione geometrica in cui i due rettangoli vengano disegnati in modo da essere consecutivi e ad essi dobbiamo aggiungere il quadratino che abbiamo intravisto nell'angolo a destra in alto la zona è diventata più piccola e il rettangolo avrà la base costituita da decimetri 95 più decimetri 95 più x e sarà di area 175 decimetri il valore della x è sicuramente minore di un decimetro e quindi sarà esprimibile in centimetri e ciò ci costringe a trasformare l'area in centimetri quadrati e quindi avremo 17.500 centimetri quadrati e la base del rettangolo escludendo la x sarà di 95 più 95 decimetri a questo punto noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo eseguire il calcolo dell'altezza facendo 17.500 diviso 1900 centimetri e avremo se eliminiamo e semplifichiamo l'ultimo zero numeratore e denominatore avremo una frazione il cui valore è 9 centimetri questo 9 lo dobbiamo validare attraverso la prova che abbiamo fatto precedentemente cioè dobbiamo controllare che la base moltiplicata per l'altezza cioè 1909 per 9 ci dà un risultato minore di 17.500 ci dà proprio 17.181 centimetri quadrati che è un numero minore di 17.500 centimetri quadrati quindi 9 è accettabile a questo punto l'approssimazione non è stata più di un decimo ma a meno di un centesimo e quindi geometricamente a meno di un centimetro come vedete tutto quello che abbiamo riportato in una parte destra si ripete nella parte sinistra nella maniera che già conoscete e lì vedete che stiamo eseguendo la prova e otteniamo 17.181 che è minore di 17.500 e quindi quella cifra 9 la possiamo accettare il resto però è 319 quindi non è zero volendo continuare si ripeterà di nuovo tutto quello che abbiamo fatto precedentemente e purtroppo questa cosa potrebbe andare avanti all'infinito il resto non sarà mai zero quindi il numero che cerchiamo attraverso il calcolo di questa radice sarà sicuramente un numero decimale illimitato non periodico che chiamiamo numero irrazionale e il 92 non è un quadrato perfetto se ci accontentiamo dell'approssimazione a meno di un centesimo possiamo affermare che quel quadrato di aria 92 metri quadrati ha un lato di circa 959 centimetri cioè 9 metri e 59 però dato che fin dall'inizio noi possiamo stabilire il tipo di approssimazione da realizzare allora volendola realizzare con l'approssimazione di un centesimo possiamo già all'inizio considerare due coppie di zeri ed ecco dimostrato il mistero della radice quadrata attraverso un ragionamento geometrico